Buon pomeriggio, ben trovati, questo è il secondo appuntamento con le notizie dal web della città, online come sempre sul canale Ustream di Torino, a partire dalle ore 17 anche in differita sul canale YouTube della città. Cominciamo dandovi qualche segnalazione sui lavori attualmente in corso a Torino. Fino al 30 agosto saranno effettuati i lavori ai binari di Corso Sommelier, angolo Corso Turati. Il calchiere comporterà il restringimento della carreggiata di Corso Sommelier tra via San Secondo e Corso Turati. Non sarà inoltre possibile percorrere il controviale di Corso Turati per circa 30 metri fra Corso Sommelier e via Filangeri. In via sperimentale vi ricordiamo che nelle vie intorno a Piazza Vittorio, per il dettaglio consultate l'elenco delle vie presenti sul sito della viabilità dei vigili urmani, è attualmente vietato il parcheggio. In piazza Gran Madre di Dio, l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata ai solo residenti della sottozona a pagamento B2, dove non sia vietata da altri provvedimenti prescrittivi, nei giorni e negli orari di seguito elencati, dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 8 del sabato, dalle 19.30 del sabato alle 8 della domenica e dalle 19.30 della domenica alle 8 del lunedì. Passiamo alle notizie del meteo, i dati dell'ARPA Piemonte lo rendono consultabile sull'home page della città, in questo momento il tempo è generalmente sereno, la temperatura è sui 28,7 gradi, l'umidità del 46%, rimonta dell'alta pressione sulla nostra area che favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato o comunque generalmente poco nuvoloso, temperature minime tra i 16 e i 20 gradi e massime tra i 27 e i 31 gradi. Diamo adesso uno sguardo alle notizie dal web della città presenti sull'home page del sito del Comune. Percorsi botanici è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Il Cervo, giovedì 23 luglio e sabato 25 luglio, rispettivamente al Parco Cavalieri di Vittorio Veneto e al Parco Rignorno. Non è necessaria prenotazione e in caso di maltempo la visita è rimandata in altra data. Tutte le informazioni le trovate sul sito della circoscrizione 2. Andiamo verso la chiusura e come sempre passiamo a guardare la città attraverso le nostre webcam. Cominciamo collegandoci con Piazza Palazzo di Città dove vedete un gruppo di persone stranamente impegnato in un circolo, in un girotondo. Bene, il consorzio 5T ci dà una visuale dell'incrocio della rotonda Maroncelli, passiamo quindi al piazzale Caio Mario, ancora 5T all'incrocio tra Corso Siracusa e Via Tirrello, vedete un traffico piuttosto scorrevole. E per finire il crocio tra Corso Turati e Corso Sommelier. Anche qui non ci sono particolari problemi di traffico. Bene, vediamo allora quali sono gli eventi per la serata, che cosa fare a Torino questa sera. Beh, intanto vi segnaliamo l'attesissimo concerto di Bruce Priestle e la East Street Band che si esibiscono questa sera allo Stadio Olimpico di Torino a partire dalle ore 20.30. Un appuntamento poi col cinema, è in corso ormai da qualche giorno, e continua la rassegna dedicata a Lars von Trier organizzata dal Cinema Massimo in sala 3. Questa sera è in proiezione alle ore 20.45 il film Dogville. Bene, per quest'oggi è tutto. Ringrazio Mare Parella che mi ha aiutato nella messa in onda della puntata e vi do appuntamento con le notizie dal web della città domattina alle ore 9.15. A tutti voi una buona serata.